Tu e il tuo business siete ben riconoscibili. È ora di creare la tua identità e di comunicarla in modo efficace per farti trovare dei clienti più adatti a te. Impara ad ottimizzare i risultati della tua attività ed avere più spazio per la tua vita privata usando gli strumenti di innovazione digitale. Ricordati che tutto parte da te. Puoi migliorare la tua persona con i più validi metodi di crescita personale. Visita il sito www.cristianbarbarino.com e investi sulla tua vita.